L'acqua ossigenata tende a perdere le sue proprietà dopo circa due mesi. Le scarpe sportive tendono ad usurarsi e andrebbero sostituite dopo circa sei mesi di regolare utilizzo. Anche gli occhiali da sole devono essere sostituiti dopo circa due anni. Lo spazzolino da denti va utilizzato solo per tre mesi, mentre il dentifricio ha una durata di circa un anno dalla sua prima apertura. È buona cosa sostituire anche gli asciugamani, preferibilmente dopo tre anni. Anche se lo pulisci spesso, il pettine va utilizzato solo per un anno. I pennelli per il trucco devono essere lavati dopo ogni utilizzo e devono essere sostituiti ogni cinque anni. Le spugne invece ogni sei mesi. Dopo circa due anni i reggiseni perdono di elasticità e tendono a deformarsi. Le pantofole possono trasformarsi in un terreno fertile per i batteri, ecco perché andrebbero sostituite ogni sei mesi. Indipendentemente dal loro rivestimento interno, i cuscini perdono la loro forma dopo circa due o tre anni. Anche le coperte andrebbero sostituite, preferibilmente ogni sette anni, ma se vengono lavate spesso possono durare anche dieci anni. Anche i materassi tendono ad usurarsi e per mantenerli al meglio andrebbero girati ogni sei mesi. Il tagliere in legno può diventare un covo per i batteri, ecco perché andrebbe sostituito ogni tre anni. Gli attrezzi per cucinare come spatole o posate vanno cambiati ogni due anni. Le spugne per lavare i piatti invece andrebbero utilizzate per sole due settimane.